Il risultato del coronavirus che ha iniziato in Cina e ora sta spiegando all'interno del mondo. E' chiaro che il coronavirus, il Covid-19, continua e continua a spiegare all'interno del mondo e al nostro paese, negli ultimi mesi. Oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. E queste mani devono essere mani responsabili, oggi più che mai. Molte famiglie, molti più famiglie, dovranno perdere le nostre mani prima dell'Italia. Il coronavirus, ovviamente, ha fatto questo molto più importante. Oggi, la World Health Organization ha annoncato che questa è una pandemia globale. Shanghai Disneyland, DisneyTown, including Walt Disney Grand Theater, e Wishing Star Park, sono temporaneamente fermi. Di casa, da casa non può uscire nessuno. Di ammessi, non può uscire nessuno. Dove andate con questi cani che hanno la prostata in chiamata? Dovete stare a casa! Non avete capito che la gente muore. Volete far ammalare tutti? Siete degli irresponsabili, dei cretini, degli meriti cretini. Sì, è vero. In front of the sunshine, how dare you? Just outside the house. She's in her garden. Oh nice. Counting all we have. Here we sit. In contemplation. Of what we had. Just what we had. I was sorry. For I neglect. With the days filled with my time. Do we really have more respect? 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 Do you hear a difference in the world? Do we really have enough respect? Do we have enough respect? Do we really have respect? Screams Missing what Was above Red sunset Full of dreams Red sunset Full of dreams I was sorry For our neglect With our days Filled with more time Do we really have more respect? Hope, fuckin' Love, yeah No, I'm okay Yeah Grazie a tutti 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 Grazie a tutti